Finalmente a casa. Ah no, le valigie. Che bello, ma fantastico, me l'hanno arredata tutta, mamma mia, basta firmare un contratto e qua ti lasciano già tutto aperto. Finalmente un po' di relax. Chi va là? Sono armato. Minchia, non sparare, non c'entro nulla, sono solo un inquilino io. No, vabbè, andiamo già bene. Alza, ti va, che fai? Ma che ne staccio io chi sei tu? Chi vuoi che sia, la Madonna? Alza, ti va e appoggia quel mestro. Anche tu però, eh. Piacere, Tony, siciliano doc, faccio dolci e sono molto ordinato. Il piacere si vedrà. Comunque, Roberto Trentino, fan numero uno di Sabrina Salerno. Dai, accomodati sul divano che ti prepara i muffin più buoni del mondo. Muffin top! Ma con cosa che non abbiamo niente in casa? È qui che ti sbagli, sono siciliano, ho il piacere nel sangue e gli ingredienti tutti nel mio trolley. Ehi siciliano, i muffin vanno bene. Perché con misura stevia? Io non avrò un trolley, ma nel mio borsone non manca mai. Misura stevia, non l'ho mai utilizzata, ma la conosco. E tu? Certo, misura stevia fa parte del mio benessere. È un dolcificante naturale. No calorie, ma va dosato bene perché dolcifica più del doppio dello zucchero. Se vai sul sito misura stevia trovi tutte le ricette che vuoi. Website misura stevia. Ecco, iniziamo subito. Dalla Sicilia con furore. Iniziamo bene, non so se riuscirò a sopportarlo per sette puntate. Ci vediamo alla prossima. Aiutatemi! Library zagata. No 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 Grazie a tutti. Mamma mia, questi mapping sono di una bontà esagerata, però ne ho mangiasi davvero troppi. D'accordo misura stevia, ma qui mi tocca smaltire tutto con gli esercizi giusti. Fallo anche tu se vuoi, trovi tutti i miei consigli sul sito di misura stevia.